Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il professor Nardi e il dottor Santone per parlare dei disturbi dell'ansia. Professor Nardi, ma che rapporto c'è tra disturbi del sonno ed ansia? Ma evidentemente i rapporti ci sono. In genere l'ansia produce una difficoltà ad addormentarsi, quindi mentre potremmo dire sintetizzando che il depresso è uno che si sveglia presto la mattina e non si riaddormenta più e vive la mattina come un grosso peso, l'ansioso pensa il giorno dopo, pensa a quello che ha fatto e non riesce a prendere sonno. Quindi l'ansia produce soprattutto una difficoltà ad addormentarsi. Ecco, ma che effetti può produrre invece l'ansia in gravidanza? Risposta sintetica è un problema grosso. Diciamo che la donna affronta la gravidanza portando con sé un'idea di sé, un'idea di quello che le accadrà, un'idea di quanto riuscirà a gestire il figlio, come sarà il figlio. Quindi dipende dallo stato d'animo di una donna, da quanto una donna si accetta, da quanto si sente accettata. Per questo è molto importante lavorare proprio sulla soggettività della persona. Quindi la gravidanza sicuramente è una situazione che può essere bellissima e a volte può essere terribilmente complicata. Dipende dallo spirito con cui una donna l'affronta, ma lo spirito dipende assolutamente dal rapporto che una donna ha con sé stessa. Direi che questa è la chiave fondamentale. Lavorare semmai sul rapporto che una donna ha con sé stessa per aiutarla ad accettarsi nella sua unicità e in questo momento unico della sua vita che è la gravidanza. Professor Nardi, quando è utile una psicoterapia in un disturbo d'ansia? Una psicoterapia è utile quando può dare degli strumenti a un soggetto proprio per affrontare le situazioni con un'ansia positiva, non con un'ansia patologica. E per il resto va contemperata con i farmaci e va dosata in modo giusto, al di fuori di ogni ideologia e con molto buon senso. Ecco, secondo le statistiche la maggior parte dei pazienti viene sottoposta a psicoterapia invece che a una terapia farmacologica. Questo perché è più utile la psicoterapia? Guardi, le psicoterapie sono tante. Non vorrei entrare nel merito dei tipi di psicoterapie, però ci sono delle psicoterapie che funzionano come i farmaci, sono sintomatiche. Altre psicoterapie che cercano di capire qual è il modo di assimilare l'esperienza che crea problemi e quindi agisce non tanto sui sintomi ma su questo modo. Anzi, da un punto di vista clinico i sintomi sono utili perché sono un po' qualcosa che è un punto di partenza che ti aiuta a capire come il soggetto ha imparato a considerare se stesso, ad affrontare la vita, ad assimilare l'esperienza. Quindi noi non dobbiamo sparare sul sintomo ma dobbiamo partire dal sintomo per capire come funziona quella persona nel suo profondo e aiutarla a semmai a migliorare il suo modo di sentirsi se stessa affrontando la vita. Dottor Santone, farmacoterapia e psicoterapia sono conciliabili? Contrariamente a quanto si credeva, ormai qualche tempo fa sono assolutamente conciliabili. È ormai dimostrato che una psicoterapia potenzia l'efficacia del trattamento farmacologico in quanto riduce il rischio di una ricaduta che poi è possibile assolutamente in questi disturbi. Però è altrettanto vero che la farmacoterapia a sua volta può aiutare lo svolgimento di una psicoterapia laddove contenendo il disagio del paziente, contenendo le acuzie sintomatologiche del paziente permette a questo di collaborare maggiormente alla psicoterapia e proprio con lo psicoterapeuta trovare una via migliore per gestire la propria ansia e poi, come diceva anche il professor Nardi, trasformarla in un'ansia positiva. È vero, dottor Santone, che purtroppo se non si curano i disturbi dell'ansia possono persistere per tutta la vita? Sì, anche questo è vero. Ad esempio esiste un disturbo che è il disturbo d'ansia generalizzato che è caratterizzato dalla preoccupazione per eventi della vita che sono comuni, questo ecco, in estrema sintesi, che viene riconosciuto in genere da 10 a 20 anni dopo l'insorgenza. Quindi vi è la possibilità che questi disturbi durino per molto tempo, non solo, ma che poi si complicano. Ad esempio la complicanza con la depressione è purtroppo comune, e quindi possiamo poi capire quale ulteriore carico di sofferenza per l'individuo e per il suo contesto sia presente in queste complicanze. Bene, ora noi abbiamo diverse domande dai nostri telespettatori e la pongo la prima al professor Nardi. Antonella Diancona dice Sono spesso sotto stress per motivi lavorativi e questo mi procura un costante stato d'ansia che sfoce in una fame vorace, che mi spinge a mangiare continuamente. È il caso di prendere dei farmaci? Dunque, noi non dobbiamo curare la fame vorace, non dobbiamo curare questo aspetto di tipo bulimico in qualche modo, mentre dobbiamo curare le cause. Quindi cerchiamo di capire come questa persona vive la situazione di lavoro, cosa ci ricava di sé, come vive l'atteggiamento dei colleghi, del datore di lavoro o altri. Quindi è importante che diamo a questa persona, magari con un po' di psicoterapia, degli strumenti per non ricavare qualcosa di negativo di sé attraverso gli atteggiamenti di chi le sta accanto nel lavoro, attraverso chi le valuta le prestazioni, perché altrimenti, certo, uno questa ansia in più la può convogliare, per esempio, su una ricerca di cibo. Certo, come capita poi maggiormente alle donne, diciamo, no? Soprattutto magari verso i dolci. Beh, diciamo che i maschi esprimono il loro disagio in modo diverso a volte. Sì, no, le donne invece magari si buttano più sui dolci, diciamo. Poi abbiamo Giuliana Di Falconara che dice mia figlia ha 15 anni, ha la fobia dei ragni, anche dei più piccoli e insignificanti. Appena ne vede uno va in estrema agitazione. Cosa mi consiglia? Di stare tranquilla, di stare tranquilla, di sdrammatizzare, di non dare particolare importanza a questo sintomo e di star vicino alla sua figlia quando serve, senza iperproteggerla quando non serve. Bene, poi abbiamo, dottor Santone, Giulia Di Ascoli Piceno che dice soffro di attacchi di panico ricorrenti. Che relazione ha con la depressione? Beh, la depressione rappresenta una complicanza frequente del disturbo di panico che, come dire, è un modo in cui poi il soggetto esprime la propria impotenza rispetto a questo disturbo sconvolgente e improvviso che non riesce a dominare. Quindi, ecco, sono correlati. Poi abbiamo Marisa Di Macerata che dice sono una persona molto ansiosa. Questo disturbo mi può portare alla depressione? Ma, fa un po' il paio con la domanda precedente. Senza dubbio l'ansia è un forte fattore di rischio per lo sviluppo di un episodio depressivo. Professor Nardi, abbiamo Armando Di Macerata. Dice, lavorare sotto stress mi procuro uno stato continuo di ansia che mi fa stare in uno stato di confusione e di poca efficienza. Che cosa posso fare, visto che, data la mia situazione economica, per ora non posso cambiare lavoro? Ecco, se il problema è lo stress non può fare niente. Se invece comincia a pensare che il problema è come lui vive lo stress, forse ci può fare qualcosa. Per esempio, non usare il lavoro per ricavare aspetti negativi di sé, non vivere il lavoro come una messa alla prova, come un esame continuo su di lui. cercare di capire come lui può esprimere le risorse che ha, a prescindere da quanto poi possono essere apprezzate dagli altri. Cioè, quello che ci procura lo stress non è tanto una situazione oggettiva, ma il nostro modo di vivere quella situazione. E se è il nostro modo, qualcosa ci possiamo fare. Cioè, se un problema nostro dipende da un altro, non ci possiamo fare nulla. Ma se ci accorgiamo che in realtà buona parte dello stress dipende da come noi viviamo una situazione, un atteggiamento, delle frasi, dei modi di vivere degli altri, a questo punto ci possiamo fare molto. Se noi non usiamo gli altri per ricavare un aspetto negativo di noi, per ricavare che siamo inadeguati, per ricavare che non sappiamo controllare una situazione, allora qualcosa di buono possiamo farlo. Quindi dobbiamo stare attenti a non usare il lavoro, gli altri, gli altri intesi come atteggiamenti, ma anche atteggiamenti nei nostri confronti. Come qualcosa di negativo, allora possiamo star bene, possiamo anche avere meno ansia. La vita, per dirla con una battuta, può diventare qualcosa che non è un esame continuo su di noi, ma è soltanto cosa mi può offrire in una sorta di supermercato dove posso prendere solo quello che c'è a disposizione. Dottor Santone, abbiamo Luana Di Urbino, sto in fase di transizione della menopausa, in questo periodo sono particolarmente nervosa ed ansiosa, è un disturbo naturale e passeggero? Sì, è passeggero e tende senza dubbio a migliorare con il passaggio dalla fase preclimaterica a quella climaterica, è ovviamente legato a quelle che sono le modificazioni ormonali, ma anche a quello che poi è il vissuto interiore della donna che subisce questa trasformazione. Devo dire che in passato hanno stati proposti dei farmaci specifici per questa problematica, che però sono stati abbandonati, non presentavano un particolare vantaggio. Un qualcosa di sintomatico può essere utile. Poi abbiamo Simonetta di Montegranaro, dice stare in luoghi affollati mi fa diventare ansiosa, potrei correre il rischio che l'ansia si trasformi in attacchi di panico? Guardi, allora, l'agorafobia, cioè il timore in luoghi in cui non si può facilmente fuggire, quindi luoghi affollati, ma anche ad esempio l'autostrada, è uno dei sintomi che può accompagnare la crisi di panico. Io ritengo che se questa è stata una caratteristica costante e stabile di questa signora, se ricordo bene, questa donna non è un fatto che debba preoccupare particolarmente. Se invece è di insorgenza recente, grave, va peggiorando in relazione a uno stress, valuterà insieme a un medico quello che sta succedendo. Bene, poi professor Nardi abbiamo Paolo di Cupramontana, l'ansia va sempre curata? Chiede. L'ansia va curata quando crea problemi, quindi se l'ansia è positiva, non solo non va curata, ma va vista come una risorsa, è qualcosa che ci prepara ad affrontare la vita. Quando invece noi siamo spaventati dalla vita, quello che va curato non è il sintomo ansia, ma la nostra paura della vita, vedere come possiamo contare di più sulle nostre risorse, come possiamo scegliere in maniera più oculata gli itinerari della nostra vita, come possiamo non usare gli altri per ricavare chi siamo e quanto valiamo. Bene, poi abbiamo Mario Diostravetere, la mia psoriasi può dipendere da uno stress causato molti anni fa? No, non credo che uno stress che è dati parecchi anni prima possa influire sul determinismo della malattia. È vero comunque che nella psoria, siccome in moltissime patologie dermatologiche, lo stato psichico ansioso può poi incidere negativamente sul decorso. Bene, poi abbiamo Lucia Di Fabriano, professor Nardi mi dice, mio figlio ha 11 anni ed è molto timido, solo per andare a comprare un oggetto da solo si sente in difficoltà. Cosa devo fare? È difficile dirlo in due parole. Quello che deve fare è aiutare quel figlio a credere in se stesso e a non usare il giudizio degli altri contro se stesso, cioè a non sentirsi incompetente. Questo è un percorso di crescita che è bene che faccia anche la mamma insieme al figlio. Bene. Poi, dottor Santone, abbiamo Simona Di Grottamare che dice, mio marito da poco tempo soffre di attacchi di panico. Qual è il comportamento migliore che posso adottare nelle crisi acute? Allora, guardi, io penso ci siano due aspetti. Innanzitutto, diciamo, quello preventivo. Non porsi alla prova. Cioè, se io ho paura, ad esempio, dei luoghi chiusi, dei luoghi dove è difficile allontanarsi, tipicamente può essere un supermercato, non c'è bisogno di mettersi alla prova, nessuna prova di coraggio. Se si intraprende una cura, poi vedremo che progressivamente questo timore verrà a scemare e capiremo noi quando è il momento di affrontarlo. Eventualmente allontanarsi da quello che può essere il fattore scatenante ai primi avvisaglie della crisi può aiutare. Il vecchio rimedio è respirare nel sacchetto, penso che sia più un qualcosa di cinematografico. Quando la crisi è scattata, si può fare ben poco per farla regredire. Forse una terapia al bisogno può essere utile. Bene, poi professor Nardi abbiamo Carla di Senigallia che dice, mia figlia è particolarmente ansiosa soprattutto quando deve affrontare un'interrogazione. Come posso aiutarla? Pensando a rispondere alla materia e non usando l'interrogazione per vedere se vale o non vale. Un po' il discorso che facevamo prima, cioè quando noi ricaviamo dal voto, da quello che pensano i compagni, da quello che ci dicono a casa i genitori, quando ricaviamo da tutto questo, chi siamo e quanto valiamo, è inevitabile l'ansia. Quindi se la scuola, invece di essere un supermercato dove prendiamo quello che ci serve per la vita, per usare una metafora, diventa un luogo dove noi siamo messi sotto esame e ci tiriamo fuori le quotazioni in borsa, la scuola è un problema. Quindi aiutare un figlio a non aver paura degli esami significa vedere la scuola come una risorsa e non come un posto dove siamo giudicati dagli insegnanti, dai compagni e anche dai genitori o dai parenti. Il voto è indice di una prestazione, di quanto uno ha studiato una materia, non è indice del valore personale. Noi purtroppo tendiamo a ricavare dagli altri chi siamo e quanto valiamo. Cerchiamo nelle persone sbagliate una cosa giusta, cioè il nostro valore dentro di noi è nella nostra unicità, mentre a volte cerchiamo il nostro valore nell'accettazione e nel gradimento degli altri. E questo è un problema. E la paura di non riuscire a piacere agli altri, a piacere a un insegnante, a essere all'altezza di una prestazione di un fratello, di una sorella, di un genitore, eccetera, mette giustamente in crisi. Quindi bisogna rimettere a fuoco la scuola come un luogo dove si va ad imparare alcune cose che possono essere utili per la vita e non a un posto dove vediamo se valiamo o no. Ecco, quindi far capire al bambino che la maestra interroga per vedere se il bambino ha studiato, ma non per dire quanto vale il bambino. Esatto, e che l'atteggiamento della maestra riflette come funziona quella persona lì e non quanto vale il bambino. Questo è importante, cioè che il bambino impari a non ricavare dagli altri chi è lui. Certo, bene. Poi abbiamo, dottor Santone, Rina di San Severino. Ci sono rimedi naturali per tenere sotto controllo l'ansia? Guardi, esistono dei rimedi che possono essere utilizzati nelle fasi molto precoci, quando l'ansia veramente è molto lieve, che possono essere anche, in alcuni casi, la valeriana si può tentare, però, ecco, penso siano veramente blandi. Altri rimedi naturali possono essere le tecniche di rilassamento che possono essere particolarmente utili in soggetti che sperimentano un'ansia situazionale. Bene, poi, professor Nardi, abbiamo Alessandro Di Fermo. L'ansia va sempre curata con farmaci o si può tenere sotto controllo con pratiche come lo yoga? Dunque, l'ansia non va tenuta sotto controllo, non va sempre curata. L'ansia è un indice, come dicevo, del rapporto che un individuo ha con se stesso. Bisogna lavorare per migliorare il rapporto con se stessi e se può servire lo yoga o qualunque pratica, anche un po' di sano sport, va benissimo. Se invece l'ansia diventa patologica, allora bisogna rivolgersi ad esperti e quindi ad affrontarla con strategie terapeutiche più specifiche. Poi abbiamo Stefano Diosimo, dice l'ansia può essere legato alle fasi di crescita, per esempio all'adolescenza. Assolutamente, sì, l'abbiamo già parlato. L'ansia è una grande risorsa, cerchiamo di utilizzarla per quello che è. Quando l'ansia ci fa soffrire, vuol dire che è un indice che c'è qualcosa che non funziona nel rapporto con noi stessi e quindi bisogna migliorare questo aspetto. Poi abbiamo Massimo Di Ancona, l'ansia può essere un disturbo anche in tarda età? Anche gli anziani hanno diritto ad avere ansia, sia perché la vita adulta non è una pianura senza turbamenti, sia perché anche noi adulti andiamo in crisi, sia perché l'ansia, anche qui, dice che quel soggetto ha bisogno di rivedere qualcosa nella vita e ha diritto che noi ci prendiamo cura dei suoi problemi. Dottor Santone, abbiamo Andrea di Civitanova Marche, gli ansiolitici per quanto tempo si possono assumere, possono procurare dei danni e quali sono gli effetti collaterali? Allora, guardi, gli ansiolitici, come dicevo anche in precedenza, possono essere utilizzati anche per lunghi periodi, purché alla dose minima efficace, evitando un escalation, cioè se il soggetto si accorge che ha bisogno di dosaggi sempre superiori, beh, insomma, bisogna a questo punto fare assolutamente il punto su questa terapia. In soggetti sani, in genere, sono tollerati come tipo di farmaci, quindi ecco, in altri soggetti, ad esempio, nei russatori, oppure nei soggetti che hanno patologie del fegato, o in un'altra patologia piuttosto rara, come la miastenia, ecco, in questi casi va valutata attentamente col medico l'opportunità di assumere il farmaco o sono addirittura controindicati. Ecco, abbiamo un'ultima domanda da Giovanni Di Macerata. Ansia e scatti d'ira, sono correlati? Non direttamente, l'ira è legata alla personalità, l'ansia, appunto. È una grande risorsa, qualche volta diventa patologica. Se uno ha uno scatto d'ira, vuol dire che ha un problema di controllo della propria sfera affettiva e quindi va gestita. Bene, quindi, insomma, non sono propriamente collegati. No, però, voglio dire, l'ira vuol dire che se uno ha uno scatto, scatto significa che in quel momento non gestisce e quindi deve imparare a gestire, ma anche a capire come mai non gestisce, quindi qual è il problema, perché se impara a gestire un'esperienza non ha bisogno di avere gli scatti. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, il professor Bernardo Nardi ed il dottor Giovanni Santone per essere intervenuti. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, la riabilitazione respiratoria. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, mentre per la visione in HD sul canale 511 ed il giovedì alle 20.45 sul canale 675. Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube digitando utvrs canale salute e che, come sempre, potete telefonare per porre le vostre domande. Potete chiamare il numero 071 75 74 372 oppure inviare un'email a onertv.it e gli ospiti presenti, come sempre, risponderanno a tutte le vostre domande. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.